Ieri la conferenza stampa accanto al suo vice Klaus Ladinser, oggi la lettera aperta alla città pubblicata su Facebook. In mezzo la dura risposta del presidente della provincia Arno Compatcher alle accuse di averlo danneggiato con la vicenda dell'Hotel Alpi. Ore di grande attività politica per Luigi Spagnoli che il 24 maggio dovrà affrontare e vincere il ballottaggio se vorrà sedersi ancora sulla poltrona di primo cittadino del capoluogo Alto Tesino. Torniamo alla scaletta. Ieri al circolo cittadino aveva criticato la provincia area di aver fatto sentire i bolzanini non certo coperti da un punto di vista istituzionale, specie, aveva sottolineato Spagnoli, nel momento in cui Palazzo Widman ha deciso di sistemare una cinquantina di profughi all'Hotel Alpi. Dornwalder non l'avrebbe mai fatto a due giorni dalle elezioni, aveva aggiunto il sindaco. Oggi sul tema ha preso posizione il presidente della provincia, Arno Compatcher. Io non credo che Dornwalder, perché ho troppo stima per Luis Dornwalder, avrebbe lasciato i profughi sulla strada solo perché eravamo in vicinanza delle elezioni. Oggi Spagnoli ha pubblicato su Facebook una lettera aperta ai cittadini ringraziandoli della fiducia concessa tramite il voto, parlando di Urzicomo e di un avversario in caduta libera e ammettendo di non essere stato completamente capace di ascoltare alcune esigenze della città, in particolare sul tema della sicurezza. Spagnoli scrive di aver forse dato l'impressione di essere irridente rispetto a preoccupazioni legittime. Ecco, è questa l'unica cosa che un po' mi dispiace, aggiunge il sindaco uscente. Sulla sicurezza c'è da cambiare qualcosa, scrive sempre Spagnoli, e appena eletto lo farò.